Un bambino ogni 2500 è affetto da fibrosicistica, una malattia genetica ereditaria che danneggia polmoni, pancreas, fegato e intestino. Per ora questa malattia le accompagnerà per tutta la vita. Negli anni 50 era improbabile che un bambino affetto da fibrosicistica potesse superare l'anno di vita. Ad oggi non è più così. Grazie alla ricerca abbiamo fatto passi da gigante. Aiutiamoli ad accendere i loro sogni. A me piace sognare. Dona la ricerca e guarigli per sempre. Per 30 anni l'abbiamo curata. Ora dobbiamo guarirla.